L'ultima spinta a cambiare la legge sulla via in Abruzzo è arrivata dall'Europa che ha aperto nei confronti della regione circa un mese fa una inchiesta propedeutica alla procedura di infrazione rispetto alle norme comunitarie del 1992 che regolano proprio la valutazione d'impatto ambientale. Questa è la ragione scatenante del progetto di legge che arriverà in consiglio regionale a cui le associazioni ambientaliste dicono no perché scritto male e in fretta. Nei punti insomma critici di questo piano non ci sono effettivi strumenti per stanare l'inganno. Le altre regioni se ne sono dotate e i risultati di questa dotazione sono evidenti perché per esempio nelle Marche l'elettrodotto Villanova-Gissi non sarebbe proponibile. Nello specifico gli ambientalisti chiedono che in commissione ci siano persone competenti che abbiano studiato la materia e non semplicemente dei laureati. Chiedono anche l'introduzione di una inchiesta pubblica obbligatoria per le opere più controverse ed impattanti, di reintrodurre la valutazione d'impatto sanitario e un regime di sanzioni per opere in difformità dal progetto commisurato alla portata della realizzazione. Insomma gli ambientalisti che aspettano da oltre 20 anni questa riforma e che più volte hanno denunciato le criticità della procedura di via chiedono di partecipare a scrivere una legge che tuteli davvero il territorio abruzzese. E' una proposta che non risolve però i problemi e anzi in alcuni casi anche li aggrava. Noi riteniamo che, poiché da 20 anni aspettiamo questa legge, da anni noi denunciamo quello che non va e ci prendiamo sempre perché abbiamo visto in questi anni gli scandali, i progetti che si fermano proprio per queste procedure farraginose. Ora era il momento giusto per risolvere queste criticità non solo con noi, incontrando magari anche le imprese, concordando una norma di civiltà. Bisogna dare un nuovo presente, un nuovo futuro alla regione. Questa legge non lo fa.